What have you come to tell me? That I should do those, what do you call them, spiritual exercises, that I'm full of sin? Since you already know that yourself, I'll save my breath. Ignazio dirà poi dopo che è stata la fortezza più difficile da conquistare nella sua vita, no? What is presented to him? He never stopped, what? No, actually. Iniziano a pensare fra di loro, ma come ci dobbiamo chiamare se ci chiedono chi siete? E nasce la compagnia di Gesù. Il termine missione, azione missionaria, nasce con Ignazio. E lui risponde, eme a chi, che in spagnolo significa eccomi qua. Lì c'è l'intimità più intima del Gesù. Lì c'è l'intimità più intima del Gesù. Grazie a tutti